Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live mentre cerco di capire dove cazzo è l'altra cuffia Ciao a tutti, salve, 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 eccoci Sì, ho aggiunto diversi emot, felice che altre persone l'abbiano notato, bravissimi, usate queste maledette emot Ce ne sono 52 nuove, animate, sono molto fighe, e quindi vai, spammatele, fate pure, provatele tranquillamente Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao, come state? Anche oggi inizio la live e vedo che la connessione è instabile Ma non capisco il motivo, anche perché non credo di star laggando in questi giorni OBS è tutto ok, non sto facendo altro, boh, sarà Twitch che ha un po' di problemi in questi giorni Comunque bentornati, come state ragazzi? Cosa mi raccontate? Vabbè, io chiedo cosa mi raccontate mentre c'è spam di emot Come va? Si comincia col delirio Sì, oggi non ho idea di cosa potrebbe succedere nel Nether, ma staremo a vedere Ieri ho visto Dune parte 2, basta una parola per censirlo È perfetto, adorato dal primo all'ultimo minuto, pur se dura tre ore Non mi sono mai annoiata, ho adorato ogni singolo minuto Anche per me è stato un filmone assurdo Non perfetto, forse perfetto è un po' un termine scomodo Qualche imperfezione l'ho trovata Personalmente, però Tantissima roba Cioè pochi film mi hanno preso così bene Oggi sushi sia pranzo che cena Vabbè Marte, ormai abbiamo imparato che tu sei alto locata Quindi è ovvio, pesce crudo tutto il giorno Sono tornato in Italia, ben tornato Beppe Di che si parla? Ma di tante cose, introduciamo la live e poi vediamo cosa capita Ho fatto un sogno stranissimo Entravo nell'esercito, facevo cose molto interessanti E poi il sogno si è incrociato con un fast food Completamente a caso E beh, si vede che avevi fame Dopo la missione O qualcosa del genere Strano, strano sogno, sì Buonasera a tutti Tra due giorni si resabba Molto bene Oggi ho giocato una partita con il diluvio universale Ed è stato bellissimo Dopo un Brexit Come Brexit? Mi sono ritrovato Ritrovati? In quella che praticamente era una piscina Una partita di... Di calcio? Buonasera, buonasera a chi sta arrivando ancora Eh, non ho capito bene Non ho capito Ok, calcio Quindi c'era un campo proprio inguardabile Fai trovato calcio saponato Mi ero frizzato Ho dovuto refresciare lo schermo Ah Non mi sa È successo solo a te Spero Anche perché se no Vuol dire che ci sono problemi Ok Ok, io sto un attimo settando Delle cosette qui Per vedere meglio la schermata Partita rinviata Ah beh, sempre mal tempo Immagino Oggi ho studiato quindi tutto nella norma All'altro giorno Un'amica Di una mia amica Ci ha accusato di maltrattamento animale Perché secondo lei Non andava bene come giocavamo Con il mio furetto Che dovevamo lasciarlo libero nella natura Perché non sono animali da compagnia Secondo lei Devi dirgli che anche lei Forse andrebbe lasciata nella natura A sopravvivere Da sola, no? Dilli Vai anche tu Sei un animale Alla fine Sei tutti animali Vai nella natura Ti pulisci il culo Con le foglie di quercia E vediamo cosa fai Poi quando capisci Le comodità Che ha l'animale domestico Che gioca Non deve cacciare Che ha un posto caldo per dormire Ma e lei ci ripensi Bella, bella come risposta Ci sta Va bene, ragazzi Qua potremmo Cominciare C'è questa bellissima Canzoncina di sottofondo Quelle di quercia Nelle piccole e comode Belle piccole e comode per l'uso Eh, piccole C'è di peggio, no? Vabbè, gli aghi di pino Così ti fai anche Uno scrub No, io non ho animali domestici Attualmente, no Non sto capendo di cosa dite Skateboard giocato L'ho trovato nel luogo di Pasqua Dei Pokémon In che senso? Quelle Gli skate con le dita In quel senso lì Beh, le foglie del banano Non sono adatte per pulirsi Mi sa Però sono belle grandi Finger skate Si chiamano Mai capito come usarli Comunque Quei cosi Va bene Ragazzi Iniziamo Come faccio a fare una donazione Punto esclamativo Donation C'è il link Ma Prima di fare qualsiasi cosa Iniziamo A giocare E devo attivare tutto Quindi Entriamo nel mondo Della randomizer E attiviamo subito Twitch spawn Twitch spawn start Eccoci Dopodiché vi metto anche la grafichina E mentre vi faccio un giro Vi rispiego al volo questa serie Se non l'avete ancora vista È un minecraft vanilla Ma ogni loot Ogni drop Ogni cosa è randomica Quindi se io spacco questa rosa Mi esce un blocco Di terracotta arancione E se spacco il blocco di terracotta Mi dà Uno stendardo grigio E ora che ci penso Forse sto giro non l'ho mai provato Lo stendardo grigio non droppa niente Vabbè Triste Il blocco d'erba Non droppa la terra Dropperà Lo stonecutter Ovviamente E il blocco di terra Invece non droppa una sega Questa è la serie E grazie per le prime due sub A me le gari 16 mesi Virtitus con i 18 Mi avete sponato Un oggetto E un mob randomico Eccolo qui Ma Virtitus Ma sei un bellissimo asinello Perfetto E Marco Grazie per i 46 mesi Un asino E un lama Allora L'asino lo posso cavalcare Il lama purtroppo è quello Del villager errante Quindi Marco Se tu sei d'accordo Se tu sei d'accordo Io procederei con l'ucciderti Non mi ricordo cosa droppa Forse non l'abbiamo ancora ucciso Bene Bene Questa è la serie Come avete visto È anche interattiva Le sub Le sub Sub giftate Di qualsiasi livello Sub prime Sub livello 1 Donazioni Bits Tutte queste cose Possono scatenare degli eventi Li vedete Scorrere di là Ce ne sono 30 diversi Positivi Negativi Potete aiutarmi Ostacolarmi Uccidermi Tipparmi Darmi oggetti Un bordello di roba E Ho giù la voce anche oggi Non so perché E che vi stavo dicendo Niente Vedete tutto di là Se volete C'è anche il comando VS1 E VS2 Per la chat Che vi dà la lista testuale Però è la stessa Che vedete lì E grazie a Simi Per i 22 mesi Ho tenuto Dei semi di zucca Ok E beh semi di zucca Carini ma Mi sa che abbiamo Sì abbiamo già le zucche in giro Quindi niente Torniamo un attimo Nella nostra basettina Ora abbiamo anche Un pratico Asino All'altra volta Ho perso il mio cammello Quindi ci sta E Per ora Questo No questo Questo qui non lo rompo Questo qui piuttosto Lo scomponiamo Anzi Dovendo andare nel nether Mi porto questo Ma io ho già Dell'oro Ma che è tutto Quest'oro Facciamo così Ne porto Quell'uno Di prima Per quanto riguarda il legno Provarlo anche Scortecciato Li abbiamo già provati Scortecciati I tronchi Tenete presente Molte cose Militare Prova questo Prova quello L'ho già provato Molte cose Le ho già provate Semplicemente Non avete visto il pezzo Magari Allora Prova a rompere Il portale Con l'acqua Ancora Ma ce l'avete su Sto portale Ce l'ho L'acqua Io avevo L'acqua Però È Scomparsa Come si faceva Il ferro Devo fare il loot Del fabbro Allora Se spacchiamo L'or di carbone Otteniamo il bambù Non questo Che ci dava poi Il loot del fabbro Lì c'è del carbone Proviamo Vedere se riesco a Ottenere Del ferro Quindi facciamo così Ovviamente c'erano Nei passaggi intermedi Che non avevo Segnato Perché se no Non ci stava tutto Ehm What? Ma Ah Eccolo Beh Non so se mi da Dei lingotti Di ferro Mi sta dando Di tutto Meno che quello E infatti Beh Io tutta sta roba Adesso non so neanche Dove metterla Quindi probabilmente La buttiamo qui Semplicemente E ci teniamo Beh il cibo Lo teniamo Ci teniamo L'ossidiana Questo Cosa dava? Non mi ricordo Più sto giro Oh la madonna Testa di zombie Ma Questa è una roba nuova Testa di zombie Va bene Vabbè Adesso non ho Non ho Il ferro Per fare Il secchio Sì posso cuocerlo Però non ho sbatta Stiamo qui Tre ore Quello che vi volevo dire È che oggi Dobbiamo andare Nel nether Questa serie È molto strana E Non me l'aspettavo così Quando l'ho ideata Perché chiaramente È imprevedibile Il loot Che possiamo trovare È randomico Quindi può succedere Letteralmente Di tutto Il fatto è questo Però Io attualmente Sono full diamante E nella mia Bacheca degli appunti Ci siamo anche segnati Che ad esempio La pietra Droppa La concrete gialla E dopo un po' Di passaggi Si arriva ad ottenere Il diamante Dalla pietra Cioè io Spaccando pietra Poi posso arrivare Il diamante Quindi abbiamo Diamante infinito Qual è il problema Della serie? Se noi vogliamo Provare a finire Il gioco Dovremmo andare Nell'end E abbiamo per forza Bisogno Degli enderai E il problema È che gli enderai Come li crafti Se i blaze E gli enderman Non craftano Non droppano La loro roba Dovremmo ottenerli In altri modi E quindi Quello che dobbiamo fare È esplorare Tutto il mondo Provare a rompere Di tutto Finché non Troveremo Quello che ci serve E per questo motivo Oggi Andremo anche All'interno del nether Il secchio Si l'avevo perso Quando ero morto Sicuramente Le balle di fieno Le abbiamo provate E Io adesso Ricontrollo Giusto un attimo Ma Se ho queste pepite Qui Non ho il ferro Di base Vabbè Non è un problema Comunque Lasciamo giù quest Da Che cosa succede? No No Picuta Cosa hai combinato Ma che culo È uscito È uscito Il warden Randomicamente Ma dai È già il secondo Della serie Dov'è? Vieni Seguimi Scappiamo Mamma mia No Adesso lo portiamo Lontano Ci nascondiamo Vedrete Che ce la facciamo Mamma mia Che angoscia Questa serie Che ansia Mangia 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 Aiuto Vai Aspetta Cosa droppano Le api Let's do Portalo Portalo A combattere Con l'altro Dite che Combattono Tra loro Non ho mai provato A far combattere Due wither Insieme Effettivamente Sì È un po' Improbabile Vero Si Si dovrebbero Tipo colpire A caso E poi Poi magari Riusciamo a far succedere Qualcosa Adesso però Devo riuscire a scappare Devo riuscire a scappare Fortissimo Abbiamo Probabilmente Incastrato in qualche albero Devo Andarmene Velocissimo Lo sento Lo sento ancora Lo sento ancora Non lo sento più Ce l'abbiamo fatta Però ragazzi Non si può Vivere così Cioè Con l'ansia Con l'angoscia Va bene Ce l'abbiamo fatta Se il loot Del wither Sono le blazelod Siamo Fottuti Vorrebbe dire Probabilmente Sfida persa A un certo punto Allora Bikuta Ha regalato 5 sub Grazie mille Bikuta A Minkadevil Emax Briss I'm no one E Davide Espo Il problema È che Una di queste 5 sub Appunto Era un wither Che culo È vero Cosa Cosa otteniamo Da questa No Sempre Sti cazzo Di cancelli Lui Legno Scortecciato Di birch L'avevo Già provato Non ricordo Cosa droppa Ma Ecco Abbiamo Abbiamo Già finito Bene C'erano Altre 4 sub Però di Bikuta Il che Vuol dire Che hai Sponato Altri 4 mob Probabilmente Saranno stati Uccisi Dal wither Stesso Quindi Non conto Di ritrovarli Ma Vediamo Qua c'è Una wither Rose Quindi Almeno uno È morto Qua c'è Ancora L'asino C'è Uno Cavallo Scheletro Fico E Sì Poi Penso Che cosa Succede Che cazzo Di infarto Ferre Ma Ferre Aspetta Che ho pure L'audio basso Aspetta Va Che Bisogna fare Gli onesti Qua Mamma mia 75 75 75 Dai Mamma mia Oh Ecco Godiamoci Il vero Casino Ha Sponato Le capre Urlanti Cosa Droppano Le capre Urlanti Mettiamo Caso Che le capre Droppano Le blazer Eh Droppano Le scale Di diorite Sempre abbastanza Ridere Questo Ammasso Di Di caproni Che Che urlano Bro Arrivo Un attimo Bene Sono morte Tutte Cosa No Non volevo Piazzare Questo Eh vabbè Niente Grazie Anche Per la Casetta Di Di Terra Ovviamente Eh Sì È un Livello 4 plus La sub Che avete appena Sentito Esattamente Purpur Redstone Slab Bambù E pot Basta Sti cazzo Di pot Granito Bello Bello Da della diorite Farmiamo il granito Fine Fine cazzo Benissimo Questa la possiamo pure buttare Va Via anche questo E via anche questo A questo punto Bene Bell'inizio Devo dire Bell'inizio Allora Vado a Recuperare un po' Di Di cibo extra Il cibo si prende così In questa serie Se ve lo chiedevate Direi di prendere una ventina Almeno Ed eccoci qua E detto questo Ah ma io avevo anche il pane Va bene Detto questo Ragazzi È tempo Forse Che lotta Grazie di 54 mesi Un minecart con hopper Attenzione Se mai Vorremmo Un giorno Fare Le farm A parte non so parlare Avremmo Già pronto quello No tip No se invece sei Un cammello Grazie per i 36 mesi Il cammello L'altra volta Mi è stato ucciso Quindi perché no È tutto così Casuale Che io stesso Non riesco Neanche a commentarla Staserie A un certo punto Il mio cervello Si perde tra I mille eventi Inizio a non capire più niente Sbiacico È impossibile Va bene Devo dormire Chiaro Andiamo a dormire Non posso dormire Perché c'è lui Giustamente Se te ne vai Felice di essere un cammello Beh è una bella cosa Essere un cammello Penso no Poteva andarti Peggio Potevi essere Non lo so Un Un girino Un Un ragno Che droppa Delle scale Rosa E Orfeo Grazie Dei 44 Mesi Sei un'ape Che droppa Abbiamo visto Le I letti Blu Non servivano A niente di particolare Mi sembro Quindi lasciamo in vita Questa petta Mentre stefa blaze Con dieci mesi Mi ha droppato in mano Un uovo Tutto nero Finalmente posso rinnovare Il prime Sono sicuro di averti donato Una spada in nederite Che cos'è? È un enderman Cosa droppava L'enderman? Non mi ricordo Già più Quindi Faremo così Lo spruzzo Wow Le twisted vines Questo non c'entra Scali di granito Ottimo Le candele Le pressure plate Di Di warped Niente Vedete? A noi servirebbero Le enderpearl Non droppa Le ender Per lui Ora Per l'ennesima volta Ho già provato A dire questa frase Penso Dieci volte Salvo altre interruzioni Si va nel neder Il neder Avrà l'aspetto Di un normalissimo neder Non prendiamoci in giro Ma Quello che contiene Non è quello che sembra Ogni blocco Lì dentro Potenzialmente È un drop Da scoprire Mob compresi Quindi Cambio l'elmo Tu Sei uscito dal portale Ho visto malissimo Si va nel neder Per la prima volta Nella serie No Ma che spondi Merda Ma ti prego Grazie Neko Per la compagnia Il cagnolino Neko 27 mesi Va bene Bene Mi seguirai Allora Cagnolino Neko Abbiamo bisogno Di scoprire Già Queste prime cose Virtitus Un'altra capra Ne avevamo proprio bisogno Grazie per la sub regalata Teone E invece Sibfra Mi ha donato Uno shared Dovremmo provare A fare I decorative pot Ora che ci penso Chissà cosa droppano Quelli Comunque Lì c'era un fungo Strano ma Vorrei partire Dal fungo Troppa Della sandstone Patate Quindi se Se farmiamo I funghi Farmiamo patate Interessante Ma la cosa più interessante Sapete quale sarebbe Io me lo sento Me lo sento dentro Ok Non sono un sensitivo Non sono un indovino Però vi giuro Che dentro di me Mi sento Che il basalto Droppa gli enderai Non ci credete Se il basalto Droppasse gli enderai È fatta Guardate Sono certo Di questa cosa Guardate Torchflower Bene Interessante Però Il torchflower Chissà cosa Droppa la pianta Poi Dobbiamo Dobbiamo provare A formare La blackstone Invece Droppa Lenderai Lispore blossom E cos'è Quindi il nether È tipo Un orto botanico E il magma block Non ho visto Mamma mia Allora Il magma block Non droppa niente Non è che non l'avevo visto Non droppa niente E va bene Allora Noi proveremo Ad andare Da questa parte Dato che La nostra Più grande Speranza Nel nether In realtà È un'altra La netherack Ah Beh Ha anche un suo senso La netherack Droppa oro Funziona benissimo Come idea E i pigli Impiacerà Questa Questa notizia Ora Ora Il problema è Come ci esco Da questo postaccio Non così Non si Di sicuro Non esco così Ok Calmi No non è culo È tutto calcolato Ho visto che c'era il blocco Ma questo è culo Ragazzi Questo è culo Non siamo neanche All'altezza giusta Per trovare i detriti Questa è la vena extra Che può sponare In qualsiasi altezza Del nether Scavando a caso Ho trovato un detrito antico Scopriamo cosa droppa Sì sì È possibilissimo È molto raro Ma può succedere Può succedere Quattro Quattro Candele Vaffanculo Quattro volte Mi dà le rose Però Con le rose Potrei farci diamanti No Le candele Sono insopportabili Comunque Non le voglio più vedere Facciamo bene A non metterle Nella 1 17 Aiuto No Fermi È vero Io qua Scavando Non sto neanche Raccogliendo blocchi Non ci sono blocchi Sono tutte piante Esatto Con i Madonna Oggi la voce È una roba incredibile Con i detriti antichi Potrei farmare Il diamante Alla lunga Però Lo facciamo con la pietra Quindi Non ha neanche senso La glowstone E come ci arriva La glowstone Non ho blocchi Non ci arrivo Tu La soul center Bassa il granito Ho trovato la blackstone Nel nether E sono felice Però la blackstone È vero Druppava Lispur blossom Quindi niente Posso dirlo Che spawn di merda Si può dire Proviamo ad andare Da questa parte Sto rischiando un po' troppo Allora Alla domanda Sono randomizzate Anche i trade Con i piglin La risposta è Probabilmente sì Ma non lo so E non ho ancora Avuto modo Di testare Questa cosa Quindi io vorrei Tantissimo Uscire da questo Inferno Orribile Raggiungere un punto Un attimo Più carino E provare A fare questa cosa È vero Non fossero randomizzate Avremmo Avremmo le perle Degli enderman Potremmo farci le perle Non ci avevo neanche pensato Però sì Rimane il problema Delle verghe Che è abbastanza pesante Io come cazzarola Ci esco da qua Eh le coordinate Del portale Dovevo pensarci prima Quello non droppa Basta Guarda Se il warden Droppasse le verghe Di blaze Lo accetterai Di buon grado Fattibile C'è di peggio Mettiamo caso Che la bedrock Droppa Le verghe di blaze La consolazione È che abbiamo Tre chance Le verghe Abbiamo Le blaze rod Abbiamo La possibilità Di Di avere Gli enderai Direttamente Non ci posso Credere Questo mondo Mi vuole Morto Dai Su Fa il bravo Bravissimo No ragazzi Potete capire Ho aperto L'inventario Ho detto E mo che blocchi ci metto Meno male che ho Questo ciccinin Di 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 Bambù Che mi son portato Allora Il quarzo Cosa droppa Il quarzo Che cazzo è Le fence Le fence Le fence Di dark oak Wow Scali di prismarine Le ho già viste Frecce Frecce di debolezza Quindi Se avessimo bisogno Di frecce Possiamo Farmare Il quarzo Non è male Come cosa In realtà L'oro Droppa Il rame Che palle Dai Non cola Allora Non mi lamento La soul sand Invece Di base Droppa La carne marcia Che è un'altra cosa Che mi sembra molto Molto corretta Per qualche ragione Le ossa droppano Questa Roba qui Che avevamo Già trovato Almeno Mi sembra Membrane Di phantom Cioè Potevano essere Le verghe di blaze Un drop Di un mob Raro Abbiamo trovato Facendo sto giro No Però Le membrane Di phantom E niente Allora Io sta roba La butterei Anche Via Sì Per riparare Le litra Che non ho Chiaramente Giusto Allora Vediamo Se invece Riusciamo a trovare Un maledetto Piglin Poi Bisognerà capire Anche come Tornare al portale Una volta Finito Tutto sto giro Ci sono Gli zombie Ma No Niente Ho visto male La glowstone Sì La glowstone Potrebbe essere Una buona opzione Sicuramente Da provare Però Io Come Mizzica Scendo Senza morire Vabbè Così Via Cosa è troppo Il fuoco blu Questa è un'ottima domanda Non c'è fuoco blu Attualmente Qui Io non ho Lacciarino Quindi Non posso Saperlo C'è un ghast Potremmo provare a Ucciderlo Merda Merda Cos'è? Cos'è? Sapete che Sono quasi Certo Di aver visto Un blocco Di diamante Che cazzo Di problemi Avete Invece Cioè Ha droppato Un blocco Di diamante E qualcos'altro Ma è possibile Che abbia Due drop Tra quel diamante Ok Il baby piglin Droppa Un red Nether bricks Che droppa Questo qui Rosso Defense Di ciliegio Ametista Scali di giungla No Questo L'avevamo Già provato Come giro Inutile Perderci Tempo Sembrava Il cuore Del mare Ma il cuore Del mare Erano due Oggetti Almeno Quindi è un po' Strana Come cosa Eh si Ha di base Due drop Ma non è che Dropa due cose Per forza Sostituisce Una loot table Potrebbe Dropparne Eventi Di cose Come una È vero Per avere i blocchi Possiamo spegnere Il fuoco Giusto Giusto Dobbiamo pensare Fuori dagli schemi Sta modalità Vediamo se riusciamo A uccidere Un altro ghast Quello sicuramente Io ho visto Un blocco Azzurro Tipo il diamante E un blocco Giallo Cioè mi verrebbe Da dire Di aver visto Un blocco Di diamante E un blocco D'oro Però è impossibile Un drop Del genere Non ha senso Sappiate che Io Non so Se riuscirò A tornare A casa Nel caso Qualcuno Volesse divertirsi Facendomi fare Un mlg drop Che Viene fatto Nell'overworld Cioè Vengo tippato Nell'overworld In automatico Nel caso Mi presto Alla sfida Tranquillamente Almeno Torno indietro Non adesso Adesso Potrebbe essere Controproducente Però Questo è davvero Un nether Di merda Comunque Ci guadagnerei In consacchio Vero Fico Vedi Vedi Quanto sarebbe Utile Perché Perché su Minecraft Ci sono I dialetti Italiani Ma Che domande Ovviamente Perché Minecraft È italiano Il suo Creatore Si chiama Giancarlo Noccini In arte Notch O ad esempio C'è Jeb Jeb è la Contrazione Del nome Che è Jennifer Bologna Jeb Di Bologna Jeb Quindi Se il team Italiano Perché Anche il Gioco In italiano Vabbè Ho capito Jennifer Non è un uomo Italiano Beh Ditelo Ditelo Ai suoi Genitori Che L'hanno Chiamato Jennifer Tra l'altro È anche Un uomo Jeb Quindi Cazzo Vi devo Dire No Fare spazio Per l'MLG Per il Per il Bucket Non serve Dai Allora L'MLG È una sfida Che mi droppa A cento No A 420 Per il meme Blocchi di altezza E poi Io mi devo salvare Con un bucket Diciamo Che c'è il tempo Di capire Che sta succedendo Basta Questo maledetto Legno È ovunque Cazzarola Ho trovato Gli stick Incredibile Dai Lo so Che romperai Il cazzo Tanto vale Sfidarlo Azzalea Problema che Il cibo Sta diventando Complicato La terra Ho trovato La terra Ma come ho fatto A trovare La terra Ragazzi Nel nether Ho fatto anche La ciment No Ti salvo io Vieni Mili Grazie per i 5 mesi Però aspetta Cosa droppa Uno strider Cazzo Pesante Questa Potrebbe Allora Allora Se Non fosse Che Volendo fare Un Wither Che Sarà uno Degli Obiettivi Fare Il Wither Cioè Volendo Gli abbiamo I Wither Gli abbiamo Gli avete Sponati Voi Sono in Giro Però Per Sponarne Uno mio Ho trovato Le teste Di Wither Cioè Questa Cosa È Importantissima Perché Nel caso Per Killare Un Wither Se lo Voglio Fare Easy Con Il Portale Dell Land Un Giorno Beh Lo Sponiamo Noi Quindi Questa È Una Scoperta Importante È Come Se Avessimo Trovato Uno Dei Quattro Oggetti Chiave Della Serie Abbiamo Risolto Un Quarto Dei Problemi Per Farvi Capire Quanto È Importante Sta Cosa Quello Non Droppa Questo Droppa Delle Peogne Le liane Farmano Frecce Non tutte Però Alcune Liane Farmano Frecce No Perché È Un È Una Strana Loot Table Questa Scortecciamo Certo Catene E Il Baby Tropperà La Stessa Cosa Del Dell'adulto Non lo sappiamo Fungo Io odio Le candene Redstone La parte in alto Forse droppa È vero Sono due blocchi Diversi Giusto Che cazzo Ho appena rotto Che mi sono Riempito Di lana Che succede La lana grigia Che droppi E repeater Questo Potrebbe essere interessante Una farmettina Di Chorus Mettiamo caso Che droppa Che droppa Qualcosa Di Di Importante No Questo Ce lo teniamo Ora Io vorrei un attimo Andarmene da qui Perché è pieno di Cinghielotti Grano Ma questa Questa è una È una cesta Del villaggio Questa Fungo Niente Allora Allora Calmi Dobbiamo provare Per bene Tutto Dov'è la Ecco la foresta Azzurra C'erano anche Smeraldi Ma abbiamo Altre soluzioni Per gli Smeraldi Quindi Non serve Tommy Mi hai Mi hai droppato Un brush E poi un bambù Mosaico Ottenuto Aiuto Facciamo così Grazie Tommy Per i 30 mesi Vediamo cosa c'è dentro Quindi questo Droppa i pennelli No Questo Droppa Il Il mosaico Questo Letti gialli Sapete tutti cosa succede se Ci dormo sopra No La caccia Occhio di ragno Che palle Sti cose Mamma mia La caccia Scortecciata Diventa Quercia Che a sua volta Non fa niente Wow Chi l'avrebbe mai detto Bellissimo Ma dai Ender dark Ma dai Non si fa così Madonna Pure silver fish Mezzo ai coglioni No no Io me ne vado Me ne vado Me ne vado Rischio di morirci qua Via Sciocco Fuggi Fuggi Sciocco Spacca Non fa niente Questo Mamma mia Guardate chi c'è lì Sì beh Farmare legno Però non è un problema Farmare legno Fammi vedere un po' E non vedo un cazzo di cosa droppano Fiori? No non dirmi che droppano Troppano il pot con il fiore Pure loro Il cazzo di pot con il fiore Basta Ma basta Sti pot Sti candele Ovunque Niente I piglin sono inutili In questa serie I piglin Non servono a niente C'è tutta una cazzo di funzione Del gioco Utile A finire il gioco È inutilizzabile Bene Dovremmo provare A killarli Certo Il problema È che Aspetta un attimo Il rame È un elemento interessante Perché se lo facciamo Ossidare Cambierà anche Il loot Che droppano Torchflower Aspetta un attimo Ma dai No è il tuffo No è il tuffo Dai Il tuffo Allora li butto questi Non servono a niente Anche questo non serve Che cazzo di delusione Sì Ogni pot Con fiore È È una cosa A se stante C'è Praticamente Cosa succede Cosa succede In questa modalità Vengono mischiate Le cosiddette Loot table Del gioco Quindi ad esempio Il pot Con il fiore Se lo rompi Droppa Il pot Del fiore Quella è la sua loot table Che in questo caso È stata assegnata Agli scambi dei piglin Ma vuol dire anche Che da qualche parte C'è un blocco Che se tu lo rompi Ti darà Gli scambi dei piglin Cioè esiste un blocco Che ti dà Tutta la roba Di piglin Io Provo a Comunque Ricercare un attimo Il portale Sapete cosa Il blocco grezzo D'oro Potrebbe droppare Qualcosa di interessante Non siete incazzati Con me voi No Perché sto casino Sei forse pazzo No Anche l'adulto Troppa questo Eh il pot Non droppa Niente di utile Purtroppo Vedete come Come funziona No Il karma Funziona così Che tu hai culo Quando non ti serve Ok Io non ho mai avuto La fortuna Di trovare I detriti antichi Sopra Il loro livello Siamo a 71 Y Cioè Mi sarà capitato Una volta Forse in tutto In tutti questi anni Di trovarli Oggi Due volte Ho trovato il detrito antico Sopra Che è una cosa Abbastanza rara Scavando a caso E non mi serve Allora Il fatto di Provare a guardare Cosa Droppa il pot Con il fiore dentro Non è Sciocco Però Dobbiamo tornare Anche a casa Se vogliamo Fare sto test Sì Tutto quest'ora È abbastanza Ridicolo Me ne rendo conto Ti odio Ti odio Siamo tornati a casa Vediamo un po' Lato positivo Grazie Grazie mille Bene Andiamo a dormire Dopo che Sono sopravvissuto A qualsiasi Cazzo di cosa Con che Ero Ero appena arrivato In una zona Aperta Come è stato Possibile Questo tempismo Dunque 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 Ok Ok Allora Mi servono blocchi Mi serve cibo Usiamo questi 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 sono diamanti Praticamente Andiamo a prendere il cibo Intanto Certo Certo che giocavo a brawl stars Ho fatto anche dei video di brawl stars Eh provare con ogni fiore Sì Il problema è che Non è che possiamo Raccogliere tutti i fiori Non droppano Semplicemente dobbiamo stare attenti Quando teniamo un pot con fiore Come drop Anziché lasciarlo lì Lo dobbiamo assemblare e rompere Perché potrebbe nascondere cose Nico Ma salve Da quanto tempo No L'anguria L'ho rotta Mi sa che per il cibo Devo andare ad aprire Loot Dei villaggi Sennò Non si va da nessuna parte Allora Cos'è che mi dà qualche blocco utile? Eh Giusto Perché non costruire in giro Ponti di lapislazuli? Però vedete Tutto ha un suo senso Cioè I lapislazuli Nel deserto Fa un po' Tipo La Come si chiama? L'antica Babilonia Quelle cose lì Dove usavano il lapislazulo E c'era il deserto Vedete? Ha un senso Ora che Ora che ho questo mondo Riesco a vedere il vero senso delle cose Possiamo incantarci le cose Certo Francesco Certo Ti faccio notare però Che non ho uno straccio d'esperienza Pot con gli alberelli Vediamo Ha bisogno della nether Che volevo provare a fare delle cose Cazzo Bello Il pot Con Con l'arboscello di ciliegio Non è male Allora Allora Mi serve L'oro grezzo Questa pecora Teone È vero Potevo fare le torce Giusto Giusto anche quello Poi recuperiamo il carbone E no Ma non le prendo le coordinate Perché non voglio andarmene Voglio solo prendere un po' Di netherrack Mi sto cercando di trattenere Di donare altri 200 bits Esatto Guai a voi A chi dona soldi Non fatelo Assolutamente Mi arrabbio Però sì è vero Ci sono anche altri eventi Cioè non siate banali Con i silverfish Che hanno già rotto i coglioni Come in tutte le serie Versus Maledetti silverfish Qua non c'è netherrack sotto Vero? No ovviamente Questo giro L'ho già fatto sicuramente Una candela Maledetta candela Attenzione Il bottone Un'altra candela Ho un dubbio No niente Se avete notato A volte I drop Anziché darmi una candela Sola Me ne da 4 Come se avessi rotto Una candela Da 4 Però mettendole insieme Sembra che non cambi nulla O forse era un caso Ora resteremo col dubbio Come se avessi rotto a freddo Io sono convinto Di aver visto Eccola Eccola qui Questo bioma è davvero terribile Fino a lì siamo tutti d'accordo Penso Questo bioma fu aggiunto al gioco I Diciamo in extremis all'ultimo Non doveva esistere E infatti poi è diventato quello Diciamo meno preferito Del nether Probabilmente anche perché è quello meno curato Però vi dirò Questo bioma È un ricordo di un periodo in cui Mojang Ascoltava Molto l'utenza Tant'è che Quando ci fu il nether update Dissero Ci sono tre nuovi biomi Quelli che avete mostrato Al minecraft live E basta Ma non saranno pochi tre nuovi biomi E loro hanno detto Va bene Facciamo così Ce ne siamo inventati un quarto Così ve ne diamo uno in più Siete contenti? Sì grazie Mojang Adesso Invece Ah ecco questo è l'aggiornamento Foresta di betulle L'aggiorniamo Certo Esce l'update Non c'è Niente foresta di betulle Così sono cambiati i tempi Ma ora Io lo so Questo blocco Droppa gli netherai No Dai Così no Non droppa niente Sapete Sapete cosa Non l'abbiamo provato Diventa un rosso Più rosso Interessante Forse l'avevo provata In realtà Sì l'avevo provata Queste La scala di acacia Non droppa nulla No Un pulsante Pulsante di dark oak Una crafting table E la crafting table? Niente La campana Spruce strippato Niente di Nuovo Andiamo a dormire Poi ci facciamo un giretto Dobbiamo capire come fare Resteranno solo i player Più affezionati Intendi Minecraft Boh ragazzi Io ormai non so più cosa pensare Non so neanche io più cosa fare Inizio a fare Inizio ad avere paura un po' Anche per il futuro Dei contenuti Perché Tipo la survival Mi sto inventando Build Assurde Però a livello di content Nuovo Cioè io ho già dato Non so che altro Metteranno nella versione Una volta non era Così tanto esagerata La cosa Adesso un po' Diventa difficile Dare carburante La macchina Tessi è già stato ucciso Troppi Il guinzaglio Mi sembra Nope No No Non ci tengo Signor panda Guitar squalo Lei cosa droppa? Brava Neko Brava Così si fa Uccidiamo i panda Non serviva niente Uccidere quel panda GG lo stesso Facciamo un versetto Così tenero Vero? Mentre moriva Che bello Ne uccideremo un altro Visto che vi è piaciuto Vabbè Itel sicuramente Darà contenuto Infatti io Mi aspetto qualcosa Quest'anno Secondo me Verso fine anno Qualcosina Una bettighina O Un annuncio Della data Almeno Chissà se ci salverà tutti Itel Giusto? Boh I banner Appesi I piazzati Avranno diversi drop Bella domanda Non lo so Invece Questo loot Qui Questo era il loot Del Bastione Mi sembra Sì Prendiamoci un po' di carne La soul sand Ricordiamo che se uccidiamo gli strider È vero Ho la soul sand anche Quindi già Io così Posso evocare il wither Quindi un boss su due Lo possiamo affrontare Gli hanno già evocato in giro Il problema è che Per batterlo Se vogliamo farla in maniera cittolosa Abbiamo bisogno di evocarlo noi Dove dico io Ma abbiamo comunque bisogno del land Però Ottimo Io comunque ragazzi Sto pensando di fare una cosa Il nether è stata una delusione Proviamo a esplorare Alla ricerca Dei biomi innevati Perché lì Troviamo un po' di Blocchi Interessanti Intanto De Scorpio Grazie ai 34 mesi La TNT La TNT è gulosa La TNT Droppa Il loot Del bastione Un loot diverso Da quell'altro Però Interessante Che la TNT Droppi sta roba E se ci desse Un cane E se ci desse Un cane Tipo questo qui Ehi Non ribellarti Ma che cazzo è sta roba Ulla Madonna Ma cos'è Ma dove sei Neko Vieni qui subito Ma cosa abbiamo appena trovato Stronghold E' vero La lodstone Niente Le peonie Le agogiarotte E' vero Dalla TNT Potrei ottenere Il netherite upgrade Quindi Le piramidi Del deserto Ora assumono Tutto un altro Utilizzo Tartarughe Cosa droppate voi Carinissime Tartarughine Non droppate niente Controlliamo bene Che non sono sicuro No Mi sembra Non droppino niente Cosa dici Droppano Non lo so Facciamo un altro test No Non droppano Cannucce Mi dissocio Non droppano Le tartarughe Potevamo risparmiarle E la pecora Di un altro colore Ha un drop diverso Yes Un banner blu Questo è Loglin No non è la mucca Ah no si è la mucca È la mucca No aspetta È la mucca Loglin È da La carne Maialosa Sì questa Questa è la carne Di mucca Questa è quella Maialosa La pecora Non droppa niente Il maiale Giusto La mucca Il mucchino Questo sicuro L'ho già provato Questo anche Figurati Se tosi le pecore Droppano Senza ucciderle Mi sembra Mirko Grazie 53 mesi Cosa abbiamo qui Dark oak leaves È interessante Bottone di giungla L'ho già visto Ah che palle Niente Niente Questo è il loot Delle navi Mi sembra Chissà cosa droppa Il tesoro Siamo anche molto vicini Andiamo a vedere Andiamo a vedere Perché il tesoro Sicuramente Non ha il loot Del tesoro Però Ah beh Perché i salmoni Droppano i tappeti Perché È tutto pieno Di tappeti Di Di cazzo Di coralli Fiori Cioè Mi sembra strano Ci sono davvero Così tante Cose stupide In minecraft È possibile Che non Mi droppi mai Un oggetto interessante Un po' esotico Lì c'è anche Una Una nave Le candele Le candele ovunque Cosa droppa La tartaruga Ah niente Non droppa niente La tartaruga Mi spiace Qui ce l'ho già passato Andiamo di qua Merluzzino L'ho visto bene Sì ci sono i merluzzi Vediamo i merluzzi Ma androppano nulla Esperienza Magari è un drop raro Bisogna provarne altre È esattamente Quello che dico io Uccidiamo altre tartarughe Se è possibile Cosa droppa La tartaruga Vediamo Ah niente L'ho uccisa per nulla Peccato Allora il tesoro Sta Qui Ok Qui Ma vaffanculo Dai Ma che cos'è Ma mi ha fatto tutto un casino Prima per provare cosa droppava Me lo trovo pure nella chest Ma smettiamola Con ste stronzate C'è che beffa Mamma mia Quali blocchi Non ho rotto ancora Ma ce ne saranno Una miriade Il problema Sapete qual è È Capire come rompere I blocchi Craftabili Perché Ad esempio Che ne so Una Magenta Glyzed Terracotta Io non l'ho mai Rotta Non c'è in natura Io ho droppato Ho droppato Ho rotto un sacco di cose Che sono in natura Ma cose che Che non trovo Non le ho rotte Quindi bisognerà fare Tanti esperimenti Bisognerà Cioè Provare un po' A farli girare I blocchi Se riusciamo a craftare cose Teoricamente Se vogliamo fare una ricerca Accurata Dovremmo tipo Prendere Che ne so Otteniamo La quercia Bene Facciamo tutti Tutti I derivati Della quercia Li posizioniamo Li rompiamo tutti E facciamo tutte le rotazioni Tutto Allora Torniamo il villaggio Adesso E infatti È qui anche Che entra in gioco La sub Perché con le sub Mi arrivano Mob random Mi arrivano Blocchi random Quindi può essere Che sia Un modo Per testare Cose strane Ragazzi Io Se continuiamo così Non ce la faccio Vivare fino in fondo Però Ve l'ho detto Già Una volta Ve lo ripeto Molte cose Le ho già testate Siete voi Che non avete visto Non posso Ogni puntata Ripetere La rottura Di ogni singolo blocco Quindi se Delle cose Le schifo Portate paziente Pensate che forse Vi siete persi Qualcosa voi È incredibile Il grano È una farm Di smeraldi Ecco perché I villager Li fanno crescere Capite Ecco Una cosa Interessante È questa Ma vedete Non è che è uscita Una roba interessante È uscito Un cazzo Di mezzo blocco A muzzo Tristissimo Dai Dai Dacci speranza Bello Non droppa Niente Va bene Dormiamo E poi ci segniamo Che Abbiamo trovato Il lutto Del bastione Che cos'è Che droppava Il lutto Del bastione Che non mi ricordo C'ero C'ero quando L'hai rotta E l'ho detto Apposta Sei proprio Uno stronzo La TNT La TNT Giusto La TNT La TNT Droppava Il lutto Del bastione Teniti Loot Bastione E allora Ragazzi Andiamo Alla Ricerca Delle piramidi Non abbiamo Ancora provato Entrare In una Piramide Ve l'avevo Detto Quando L'abbiamo Vista All'inizio Tra l'altro Mi prenderei L'asinello A sto punto Ve l'avevo Detto Non è Fondamentale Entrarci Perché Può essere Che Ci sia Di tutto Non è Che troviamo La classica Chest Da piramide Cazzo Sono i miei Mob Però Non c'è più Nessuno Qui Però Diciamo Che con La TNT Che ha Questa utilità Cambia un po' Tutto Quindi Va Provato Eccoti Andiamo Virti Ah è vero I cani Droppano I diamanti Possiamo Segnarci Che sta Cosa Non ci serve Perché possiamo Tenerli Dalla pietra È un bel Giro Fastidioso Quello Che però Ci permette Di ottenere Più facilmente Diamanti Piuttosto Che cercare Un Un cane Meloni Gli olotti Perché ogni volta Eren I meloni I meloni I meloni Figa Capito Non Non servono La sabbia Sospetta Eh la sabbia Sospetta Avrà Un suo Lut Lì c'è anche Un portale Abbandonato Gli animali Che vanno A fuoco Cambiano Lut Quello Non Penso Anche se Effettivamente Se noi Chigliamo Con il fuoco Maiale Lui droppa Direttamente La carne Cotta Quindi Effettivamente Il suo Lut Cambia O no C'è Matteo Fate finta Di non averlo Visto Sono quasi Schifato Questo drop Quindi Cioè Fammi capire Il mezzo Blocco Di pietra Contiene Il loot Del deep Dark Della città Antica Sì Il mezzo Blocco Di pietra Ma davvero Questo cos'era? Che sbatta Via Via la lava Il letto grigio Secondo me È la chiave Di tutto Ragazzi Ve lo dico La spugna La spugna Attenzione Attenzione Questi si che sono blocchi Esotici Grazie L'anarancione L'abbiamo mai provata? È Il pot Col fiore Che questa volta Componiamo E spacchiamo Ottenendo il quarzo Che non serve Una sega Visto? Eh Giusto E l'ossidiana Cosa droppa? No Avevo trovato La spugna Bagnata Non la spugna Sapete che Non è Non è male Ma Invece Le chorus Dove le avevo prese Io L'avevo ottenuta La chorus flower Nel nether Poi sono morto Questi li ho già provati Sicuro Ah la zucca Questa cosa L'ho già provata Andiamo avanti Bello però Interessante Le chorus Potrebbero Essere Interessanti Se hanno un buon drop Ne faremo un casino Cioè Se al posto Del chorus fruit Ci fosse qualcosa Di Di più utile Sarebbe Davvero interessante Come cosa Il guider di Matteo Invece Dove sta È molto vicino Comunque l'asino È davvero lento Al prossimo quarzo Unisci due slab È vero Anche questa cosa Dovremmo provarla Cioè unire i due slab Creano Non creano un blocco Creano Un double slab Forse l'avevo Già provata Sta cosa Però Immagina Portarti sulle spalle Che fatica Cosa sarà mai E mica c'è Sopranao Ci fosse Sopranao Cioè Arriverebbe Strisciando Con le zampe rotte L'ho già fatto Ok Niente Atalla Gave in Grazie dei 16 mesi E della Rib Del rib smiting template Allora Letto marrone Porta di acacia Anche il rame Quanto è presente Il rame Ci sono troppi Blocchi di rame In sto gioco Questo l'avevo Già provato Sicuro Che mi ridà Il rame Peraltro Va bene Dobbiamo scendere Pericolosissimo Quello che ho appena fatto Cetrioli di mare No 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 Abbiamo trovato la dark oak Le Le soul torch Aspetta No Bicuta La trappola Dai Mamma mia La farm di legno Comunque Ci può stare Anche lo Skull catalyst Queste robe qui Sono interessanti Non Ignoriamole Questa non è interessante Questi qui Il grass block Grazie Francesco Tornerai a portare mappe Captive Eh magari Magari Sarebbe stato bellissimo Ma hanno smesso di farle Questa non droppa niente Ok Spacchiamo tutto Questo è troppo a candele In realtà Non vedo nulla È troppo interessante Quello è un template Normale Non c'è il netherite upgrade C'è un sacco d'oro Potrebbe andare molto meglio Sta cosa Per quanto riguarda Le candele Intanto sto buttando Un sacco di cose utilissime Me ne rendo conto ma Non so più dove mettere Gli oggetti Le candele droppano La Propagula Questa pressure Invece Abbiamo già provato L'oro nella blackstone Banner verde Un fiore Un fiore Mettiamolo nel pot Acacia strippata Niente di nuovo Vabbè Devo dire È stata un po' Una delusione Purtroppo La sabbia sospetta È vero Qui ci dovrebbe essere No? Allora Vediamo Credo abbia droppato Del Del rame Ha droppato del rame Scaffolding La handstone Rame Pense Di nether bricks Questo l'ho rotto prima Esatto Beh Se usassi il pennello Probabilmente Cambierebbe sì qualcosa Non ho un pennello Attualmente La vera novità Di stasera È sicuramente Beh A parte che Abbiamo soul sand E abbiamo Trovato il modo Di ottenere Le teste di guider Ma il fatto che La pietra Lo slab di pietra Ha il drop Delle città antiche Quello è abbastanza Cramoroso Citrillo di mare L'abbiamo già rotto Gli ask Eh non ho la pietra Bisognerà capire come fare Questa cosa Non serve a niente Già che siamo qui È duro perché Mi serve Questa in realtà Che cosa abbiamo Droppato Great Terracotta Questo l'abbiamo già provato Non mi ricordo Cosa faceva Ma otteniamo Della caccia Quindi Cioè sì Figo Di avere del legno Però Niente Possiamo Andarcene Qual era L'easter egg Del cammello Ma forse Non si è neanche Più scoperto Non mi ricordo Vabbè Se dato Lo spawn point Fa niente Adesso Torniamo a casa Comunque Poi l'ho risetto Lì Perché è diventato Tutto Rossiccio Cos'è Un effetto Dell'eclissi Mi è sembrato Fosse diventato Tutto rossiccio Di colpo E ora Non più Che cazzo era E' appena partita La musica Il Wither Sì beh C'è l'eclissi Però Non Non dovrebbe fare Nulla A parte Alcune Ah era il messaggio Del Wither Ok A parte alcune Influenze Tipo quelle Sulli slime Sullo spawn Delli slime Non ricordo Se facesse altro Ed eccoci tornati Forse un letto Dovrei metterlo In casa Effettivamente Invece questo Cosa troppa Pot Abbiamo trovato Un doppio pot Allora Uno qui Uno qui Questo E questo Coniglio Coniglio E pollo Ma Che cazzo La propagula Il banner verde Lime Ok La terra Eh vabbè Niente Allora Segniamoci Delle cose Interessanti Comunque Lo slab Di pietra Droppa Il loot Della Ancient city Inoltre Abbiamo trovato La soul sand E Non ho segnato Che gli strider Droppano La testa Di weeder Mettiamo via La soul sand Intanto Dove Mettere via Un po' Tutta sta roba In realtà Ho anche Un sacco Di carbone Quindi Ci siamo Levati Pure il problema Di fare Le Le torce E devo Devo Anche Guardare Una cosa Però Ce l'abbiamo Un modo Per Ottenere Della pietra La cobblestone Non l'abbiamo Mai ottenuta La pietra Nemmeno Quindi La pietra Liscia Non l'abbiamo Mai ottenuta Come faccio A creare Delli slab Di pietra Forse Oltre Ai Portali Abbandonati Non Non c'è Moda Di Di fare Altro L'ossidiana Droppa Le handstone Potrei provare A cercare Altri Portali A sto punto Andate un secondo Larry Ho rimosso Il ban Che hai dato Fagli un time out Molto lungo Ban Forse un po' Troppo Fagli un bel time out Dai Ho visto Partire un ban Che Non Non mi aspettavo Infatti Non scrivete cose Di quel tipo lì Francesco Santo cielo Ogni cazzo di live Scrivi una minchiata Altra moderazione da fare Tutti insieme Appassionatamente Qui c'è un reader Mi sento un po' In trappola Allora Sospendi Fatto Quel funghetto Avevo già provato A romperlo Non è che è lui Che mi droppa No Non mi droppa Lo Chorus Cos'è che mi droppava Il Chorus Non mi ricordo Vediamo questa qui Trapdoor Trapdoor di mangrovia Sugar cane Che non droppa Nulla Sì Comunque Secondo me Per le prossime puntate Se vogliamo dare Una bella svoltina Dopo queste prime tre Puntate In cui abbiamo esplorato Abbiamo guardato un po' Cosa ci offriva il mondo Dobbiamo o Decidere di metterci qui E craftare Quante più cose possibili Oppure Esplorazione folle Alla ricerca Di altri biomi Alberi Cose Insomma Dobbiamo accedere Ad altri set di blocchi E Mentre adesso Sto cercando Se riusciamo a trovare Un bel portale Abbandonato Perché in quel caso Ci troviamo Uno dei loot Più OP Del gioco Praticamente Sì Il Deep Dark Stesso Ci servirebbe Per quello Abbiamo bisogno Di una bella montagna Però C'è la Dark Oak Forest Attenzione Lo so che non lo cibo E che non so neanche come prenderlo Quindi ci attacchiamo un attimo Purpuro Purpuro Questa Questa concrete è ovunque Non capisco perché È quella da cui prendiamo il diamante Letti bianchi Letti bianchi Wither rose I letti bianchi danno le wither rose Ci sa Ma Condivide La loot table Del basalto Molto strana Sta cosa La foglia L'avevamo già provata Questa Mi sembra Ok Ci dà i bottoni Così Niente Funghi Bello Che il fungo Mi dia La birch Scale Di Rame Letto verde Fornaci Cibo Abbiamo trovato cibo Guarda che culo Possiamo mangiare dal fungo Allora Mangiamo Guardate che facciamo Prendiamo La fornace E ci buttiamo dentro Questi Scraftati Più questo qui Spacchiamo un po' di questi qui Cibo Easy Quindi i funghi rossi Ci danno da mangiare Nel chill Proprio Nutri anche il cane Non so se Neko se lo merita Però Neko te lo meriti Se resisti al prossimo pugno Ti nutrirò E' un po' lunga la cosa Peraltro Fa abbastanza riflettere Che il blocco rosa Droppa carne rosa Quindi è diventato Il blocco di carne Questo Abbiamo ufficialmente Il blocco di carne Tieni Posso Un disco musicale Grazie Safuria Per gli otto mesi Minecraft ha taggato La Warner Su TikTok e Instagram Ho visto E produrranno loro Apparentemente il film Che non è una brutta cosa Perché La Warner Ho detto una cosa sbagliata Mi sa La Warner E la Come si chiama l'altra? Non mi viene Adesso vi dico No Ma che vedo nei tuoi occhi Ma cosa mi apri? Ehi Cos'è? Cosa succede? Via via Scusate Ho aperto TikTok Mi sono partiti Cioè Avevo visto Lollo lacustre Ricche e poveri Un'altra roba Calmi Calmi Qua mi arrivano Qua mi arrivano i copyright Lo apro sul telefono Aspettate Figa E volevo aprire Per andare sul Cosa di Minecraft Mi si è aperto L'home page A tutto Volume Dragon Grazie 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 Dei 14 mesi Cosa un troll Bicuta Che infametto Che sei Allora Warner Bros E Legendary Ecco Warner Bros E Legendary Se mi becco Il copyright Dei ricchi e poveri Mi incazzo Però Che già oggi Ho dovuto caricare La Come si chiama La Puntata Di Final Fantasy Basta Mi sono rotto Andiamo Mi hanno beccato Due tracce Per copyright Grazie al cazzo Sono le soundtrack Del gioco Ci sono Cosa devo fare Dormi ai letti Non è una brutta idea Però Non so se voglio Settare qui lo spawn Ragazzi I funghi Sono la vita A posto Sì Sì Poi lo rompo E muoio Torno Che cazzo di Che cos'è Un villaggio Anche questo Mi sa È sempre Il fabbro Ok Bello Cibo Cibo volontà I I funghi Dicevo Se Rompo il letto E poi muoio Spono nel deserto Che non è la base È un altro Un altro posto Quindi non so Lut miniere Eh può essere Visto così Non Non si capisce Cioè io almeno Non Non li riconosco Il volo Va bene Tornata Cali Buonasera Vediamo che cosa Ha esponato Un axolot Che purtroppo Devo subito Procedere ad uccidere Per scoprire cosa Troppa La Fletch In table Che in questa versione Avrà un'utilità Vero Sì Fermi Fermi Ferro Pensavo Meglio Pensavo Meglio Mangia 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 Te Andiamo Sì Il film Il film di minecraft Pare che potrebbe essere Prodotto Da warner e leggendari Quindi Chissà cosa salterà fuori E' abbastanza promettente Cioè non ci lamentiamo Assolutamente Megataiga E qui ci sono le alghe No vabbè Non ci credo Non posso crederci Ma che cazzo sto vedendo Ma cos'è Ci sono Le responansior Allora Ci sono tutti i minerali Praticamente Diamante pure Che loot è Isperienza Questo è un loot Del nether Perché c'è C'è l'ancora Del respawn Eh sì Bastioni Saranno questi Ma questa roba E' Davvero Rottissima Ma non ha senso Aspetta I letti Magari Li possiamo anche Abbandonare A sto punto Mamma mia Mamma mia Ragazzi Mamma mia Che ignoranza Qua si è Qua si è addirittura Ha rotto da solo Quindi l'oceano potrebbe essere riempito Di questo loot Potremmo trovare Così casualmente In giro per l'oceano Un po' di questo loot Che galleggia Incredibile Dobbiamo provare L'ancora del respawn E capire cosa droppa Esatto Più i blocchi sono stupidi Più il loot Sembra questa la regola Se l'avessi trovata prima Questa roba Avrei sicuramente Resettato la serie Senza dubbio Cioè Assurdo Ah è vero C'è il cost armor trim Loot delle barche E che ci fa L'ancora del respawn Dentro Come può essere Sono due loot diversi Mischiati Mi sa Sapete perché La punta dell'alga È diversa Dal resto Sono due loot Diverse Ok Adesso Vedendo così Un tappeto Cioè Uno dice Boh Vediamo Ok Non ci serve Blocchi colorati Che forse Abbiamo già visto Punch E questo Possiamo toglierli Inutile Il pitcher pod Ha del potenziale Blocco muschiato Terra Che palle Il pozzol Il pozzol È vero Il pozzol Non droppa Ma ora Scopriremo Che le foglie Di spruce Droppano Gli enderai Ha droppato Ha droppato un pot Il pot Con la propagula Che palle Sti pot Mamma mia Che a sua volta Droppa La pietra La pietra Signori Cosa sta succedendo Stasera Abbiamo sbloccato La pietra In una Loot table Che Non so Manco cosa sia C'è il colorante Dentro C'era il pane Il colorante E la pietra È un villaggio Dovrebbe essere Qualcosa Di un villaggio Probabilmente Quindi sì Se noi adesso Andiamo su No Tra le ruins Non credo Tra le ruins Mamma mia È la fine Questo via Sì Ci sono un sacco Di pot No Non potremmo Bardarli tutti Questi pot Mi dispiace Chissà quanti Sanno cosa vuol dire Bardare un pot In questa chat Bardatura Pelo di vecchio Anche questa È abbastanza Storica Come cosa Quando Rifarete un UHC Allora Guarda Ne abbiamo parlato Una settimana fa Abbiamo deciso Ufficialmente Che rifaremo Un UHC Il giorno In cui si Ghiaccerà il sole Altrimenti No Non la faremo Mai Mi dispiace Siete pronti Al godere Supremo Infinito E finale Chi avrebbe mai detto Che questa Poteva essere La soluzione A tutti i nostri Animali Oltre a sbloccare Il cibo Sblocchiamo La pietra Ma ci sono Stone bricks Pietra Smossata Che strano Loot Bene Via questo Questo via Questo via Questo via Questa la Possiamo provare Fa il culo Fa il culo Perfetto A me interessa La pietra Perché la pietra? Perché vi ripeto Se andiamo a fare Il mezzo blocco Di pietra Abbiamo il loot Delle città antiche Quindi in questo modo Godiamo Proprio A profusione Con questo loot Questa non droppa niente Godiamo a profusione Ragazzi È finita La cassa Del tagliapietre Così Preciso Sicuro Sicuro Nella città antica Troviamo Diamanti Potremmo trovare Le mele op Possiamo trovare Incantamenti Di alto livello Possiamo trovare Un sacco di cose Sì Sì Beh Dici Hai già Tante cose op Cosa Cosa te ne fai Chiaro Non è che sia Questa Svolta nel gioco Però Comunque È una roba Molto interessante Diamante Il blocco di diamante Non l'abbiamo mai provato Ma dobbiamo provare Il blocco di tutti i vari minerali A sto punto Ferro Ferro Smeraldo Diamante Proviamo E niderite Anche Perché no Le Lush Cave Le abbiamo già Viste Secondo te Sarà forte Ma Michela Nel DLC Nuovo Così Ma questo cambio Di argomento Velocissimo Non è neanche detto Che sia affrontabile Occhio Ma se lo fosse Sarebbe Fortissimo Il blocco di carbone È vero E i maiali Cosa droppano Ah sì E tu Tu droppi diverso No Anche lui Droppa la testa Voi cosa droppate Sempre la testa Tu Testa Ah Testa Niente Perché sono tutti uguali Piccola conferma Ottenuta Ottenuta Queste non servono Eh Già provate Eh sì La testa L'avevo rotta Adesso non mi ricordo Cosa droppa Però l'avevamo provata Però se volete Il prossimo maiale Lo killiamo E guardiamo Non è un problema Certo Meglio essere Certi Qualche tartaruga Sarebbe interessante Da provare Già che siamo In una spiaggia No Non accendi Cioè Non qui Le Minchia Le baby tartarughe Eh Guarda lì cosa c'è A parte c'è Del diamante Che è rimasto Da non si sa quando Ci sono diverse tartarughe Allora Cosa droppa La tartaruga Niente Però questa L'ho uccisa Neko Quindi magari Fa differenza Proviamo A ucciderne Una Noi Non droppa Niente Peccato Non so che potrei Far incazzare Le api Ma No Nulla Cosa vuol dire Gli streghe Del cammello Ancora Dici Non so cosa sia Gli streghe Del cammello Non lo so Quale sia Non so se Si è mai scoperto Greta Thunberg Left the game Eh addirittura Perché ovviamente Era qui L'api L'api Cosa aveva droppato Non mi ricordo Ma niente di che Vedete Provare a uccidere Le tartaruga Picconate Magari droppano Qualcosa di diverso Potrebbe essere È un test Che vale la pena Provare a fare Teniamolo presente Per le prossime volte Le api Le api I letti blu Ok Con tutti gli attrezzi Ma con tutti gli oggetti Del gioco Ok Siamo tornati Per concludere Che è tardi Poi andiamo su Final Fantasy Facciamo Questo Questo In cui Ripongo Molte speranze Facciamo questo Riponevo Molte speranze L'ho detto Ah Un cartello Di acacia Ma è proprio Quello che volevo Da un blocco Di diamante Ma è troppo utile Sta concrete C'è sempre Incredibile Sai cos'è Cosa rappresenta Con la concrete Adesso l'ho Già rotto Sicuro Sì Bella merda E se era un pessimo Invece la nederite No Ese è un problema E se è un problema No La glow squid Poteva essere Eh però Però ti dirò L'avrei voluto fare Non serve un cazzo Però è una cosa che volevo fare Ma adesso Ragazzi Lasceremo giù questi E il me del futuro Potrà iniziare l'episodio Con Il farming di questa roba Molto molto utile Quindi nel prossimo episodio Farmeremo Per ogni mezzo blocco Un loot Della città antica Le lascio qui per La prossima volta Così abbiamo un bello start Ma devo dire che È stato un episodio Strano questo Perché abbiamo fatto Tante conquiste Abbiamo trovato Tante cose interessanti Ma Il nether è stato Davvero deludente Molto deludente Potremmo potenzialmente Arrivare A sponare Facilmente Un wither boss Il problema Dell'end Del raggiungere L'end Esiste ancora Non abbiamo risolto nulla Speriamo la prossima volta Di trovare Un ingrediente E soprattutto Ricordiamoci La prossima volta Di testare Le uccisioni Sulle tartarughe Che potrebbero Droppare cose Interessanti Magari Gli netheri Sono le schiut Chi lo sa Però Per adesso è tutto Quindi salutiamo La randomizer